Ma voi, le vostre creazioni, come le confezionate? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Oggi un video differente dal solito Vi insegno infatti a fare delle scatoline per le vostre creazioni Delle scatoline di cartoncino Col cartoncino che poi vedremo più tardi sul piano da lavoro Che comunque sembreranno comperate Non delle scatoline proprio artigianali Sembreranno proprio, proprio industriali Bellissime, pulite, nette Con queste scatoline potrete confezionare bomboniere, bijoux, lavoretti Qualunque cosa Basta variare le dimensioni E vedrete che sarà un modo bello per accompagnare un regalo homemade Perché molto spesso il regalo homemade è bellissimo Ma poi la confezione lascia molto a desiderare E allora si perde anche l'importanza principale del regalo Bisogna sempre accompagnare una creazione artigianale Con una confezione che supporti ed esalti il contenuto Perché sennò tutto viene svilito, fatto in casa E quando molto spesso si dice una cosa fatta in casa Si pensa anche a qualcosa di arraffazzonato Invece no Anche l'artigianato, anche le cose create con le proprie mani Possono assurgere a un ruolo di oggetto d'arte Oggetto di artigianato O semplicemente un oggetto ricco di carico affettivo, emozionale O semplicemente un bello oggetto Se supportato da una cornice che lo valorizzi e lo esalti E che comunque renda degno dono a chi lo facciamo Perché chi riceve un nostro dono Deve pur ricevere qualcosa di bello Anche nella presentazione E' come se noi fossimo delle bellissime persone E andassimo in giro tutte quante stracciate Insomma non faremmo una bella figura E la stessa cosa possono rischiare anche le nostre creazioni Oggi vi insegno a fare delle scatoline vetrinetta Che comunque poi vi spiegherò anche come variare Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa Ed ecco l'occorrente per creare le nostre scatoline homemade Però delle scatoline vedrete veramente veramente perfette L'occorrente è una squadretta, una gomma, una matita Un cutter, un taglia balza Un bulino che è uno di quegli strumenti Che finiscono con delle palline Alla loro estremità più esterna Questo è proprio un bulino da belle arti Ma potrete anche ovviare Con un dotter per manicure Quelli che servono per fare le palline alle unghie Oppure se non avete nel bulino e nel dotter Ma avete una bick, una penna bick che non funziona Benissimo, quello è proprio quello che fa Al caso vostro Prendetela ed usatela E poi una colla a roller Questa è la Huku Roller E costa qui la scatolina 3,50 euro 8 metri di colla La trovo molto buona Per fare le scatoline è veramente ottima Perché le fa pulite pulite E lo vedrete fare con me Ma in alternativa potreste usare Anche della normale Vinavil Che io compro naturalmente in vasoni grandi Ma siccome qua mi serve passata con precisione Poi metto in questi contenitori Che vendono nei reparti casalinghi Anche al supermercato Questo è un contenitore per il ketchup Che io invece ho riempito di Vinavil Ho tagliato la punta E lo userò appunto come dosatore Al posto della classica bottiglietta Vinavil Primo perché è il beccuccio lungo ed è molto comoda E secondo perché così ogni volta io ricarico la mia bottiglia E posso comprare i bidoni convenienza di Vinavil Che sono sicuramente quelli più grandi E poi mi occorrerà un foglio di acetato Quindi questo è trasparente lucido semirigido E poi dei cartoncini del colore che preferiamo Uno rosa Vedete quanto è lucido Questo si chiama proprio cartoncino lucido È lucido da una parte È completamente bianco opaco dall'altra E sono dei cartoncini perfetti Per fare delle scatoline Molto molto professionali Diciamo così Oggi faremo appunto la classica scatoletta E allora cominciamo subito Quindi giriamo il cartoncino Nel verso Al suo contrario Diciamo così E prendiamo la misura Voglio sintetizzarvi su un normalissimo foglio I pezzi che dovremmo fare Quindi dovremmo fare Sicuramente una linguetta Qui Ok? Poi Un pezzo un po' più lungo Che sarà la parte Superiore Che andrà a chiudere lateralmente Quindi il corpo della scatoletta Quindi di nuovo il pezzo come prima E di nuovo la linguetta Lateralmente Dovranno esserci Due linguettine Quelle che si mettono poi laterali Ok? Quindi i laterali della scatoletta Altre due linguettine Proprio sto facendole coi piedi Quindi di nuovo il corpo della scatoletta Poi uno schema Fatto ben ben ordinato Lo troverete sulla mia pagina facebook E poi un bordo Escrescente Ulteriormente Per far appiccicare questo A questo E chiudere la nostra scatoletta Detta così Sembra complicatissima Vedrete che invece Facendolo E sarà facilissimo La mia scatoletta Deve avere Un centimetro di linguetta E segno un centimetro Poi Tre centimetri Di Spessore E quindi prendo i primi tre centimetri Che seguiranno La chiusura della linguetta Presa Linguetta E dorsetto Che accompagna la linguetta Decidiamo la lunghezza Del corpo Io voglio Che la mia scatolina Misuri Di lunghezza 21 centimetri Quindi Dopo i 21 centimetri Prendo di nuovo I tre centimetri Che avevo presso Da quest'altra parte E un altro centimetro Di linguetta Dall'altra parte Invece Prenderò come misure Lo spessore Che abbiamo detto Essere di tre centimetri Perché È la stessa Misura Che è qui Che piegandosi Diventerà parte Dello spessore stesso Quindi Tre centimetri Poi La larghezza Della scatoletta E in questo caso Io decido Otto centimetri Altri tre centimetri Perché è l'altro lato Dello spessore Altri otto centimetri Perché sono L'altra parte Della scatoletta E poi Prenderò Un due centimetri Un centimetro e mezzo Due Questa è la vostra Discrezione Per il bordo Da appiccicare Al dorsetto Laterale Prendo anche I laterali Mettendo a squadra E riprendo Le stesse misure Speculari E anche qui Riprendo le misure Come le avevo prese Prima E abbiamo Tutti i lati segnati Avremo In questo modo Un rettangolo Di 28 centimetri Per 24 centimetri Possiamo Ritagliarlo E tutti i segnetti Fatti sul laterale Che non dobbiamo Perdere Manteniamoli Anche nel ritaglio Dentro al rettangolo Ok Ritagliamo quindi Il nostro rettangolo Arrivati a questo punto Potete scegliere Se tracciare le linee All'interno Della Scatolina Oppure no Io naturalmente Non le traccerò E andrò direttamente A rifilare Le linee A bulino In modo tale Da lasciare I segni Del percorso Come se passassi La matita Ma Invece Incido proprio Il percorso Che farà il bulino Sotto Avrete bisogno Di un tappetino gommoso O di un tappetino Siliconico Quindi qualcosa Che faccia Sì Che il segno Venga ben impresso Col bulino E la punta Piccola del bulino Vado a tracciare Tutte le linee Che mi serve Di evidenziare Allora Un centimetro Quindi le linguette I tre centimetri Quindi I dorsetti E anche Dall'altra parte I tre centimetri E l'un centimetro Speculari Stessa cosa In orizzontale Quindi I tre centimetri Dello spessore O dorsetto Io so che non state vedendo niente Ma è come se stessi passando la matita Guardate Qui lo vedete bene Sto incidendo Delle linee Con questa puntina In modo che Anche dall'altra parte Si crei Eccola qua Si crei una sorta di orma Di quello che è il passaggio Che dia già La prepiega A quella che poi dovrà essere La piegatura finita Continuo Fatto questo Dobbiamo decidere Quale delle due parti Deve essere la parte anteriore Io penso che sarà questa La mia E partendo Dalle misure interne Del rettangolo Quindi dalla sua grandezza Devo definirmi La larghezza Della vetrinetta Quindi è molto semplice Io lascerò Come laterali Due centimetri E due centimetri Sopra E la stessa cosa Farò sotto Quindi Sulle altre sponde Deciderò Quanto larga Dovrà essere La mia vetrinetta Facciamo Un centimetro E un centimetro Facciamo vedere bene Il contenuto Più larga sarà La vetrinetta Più il contenuto Della scatolina Sarà messo In evidenza Dopodiché Qui Vi consiglio invece Di fare Il passaggio Di matita E ora vi spiego E non direttamente Il bulino Anche se Sottilissimo Così Leggerissimo E adesso Eliminiamo Tutta questa Parte Questo Non buttatelo Tenetelo da parte Perché poi ci servirà Per prendere la misura Sull'acetato Che dovrà Ricoprire Qui la scatolina Intanto Andiamo a formare Effettivamente Quella che è La nostra scatoletta Cosa faccio Allora Da La parte Dopo la vetrinetta Io tolgo Il primo Tutta la parte superiore Fino alla prima Linguetta Quindi Tutto questo Lo elimino Via Ed elimino Anche l'altra parte La speculare Elimino anche Le parti sommitali Sopra le linguette Quindi Uno E due Uno E due Anche dall'altra parte In commercio Esistono dei macchinari Come per esempio La Big Shot Per fare Questo tipo Di lavori Ma naturalmente Su cose più piccole In questo modo Invece potrete farle Di qualunque Qualunque Misura Voi desideriate Quindi la libertà Dell'home made Nel senso Del fatto a mano Dell'artigianato In toto Non aiutati con nessuna macchina Vi dà una libertà Maggiore di azione Adesso Ho aperto Anche i tagli Verticali 1 e 2 In modo da liberare Appunto Le linguettine Queste linguettine Dovrò fare Dei tagli Un po' Trapezoidali Cioè Togliere Dei triangolini A destra E a sinistra E anche Questa parte In questa parte Finale Della linguetta Da un centimetro Do un po' L'andamento Trapezoidale Questo servirà Per far sì Che la scatoletta Si chiuda Ancora meglio Si chiuderà Anche se non li derete Però se li derete Verrà ancora meglio Più professionale ancora Sembrerà quasi Fatta industrialmente Voi non ci crederete Ma è così Facciamo la stessa cosa Anche dall'altra parte Quindi Apriamo i tagli Verticali 1 2 E diamo Un andamento Trapezoidale A tutte le linguette Finali Quello che avremo Sarà questo Adesso Prendiamo L'acetato E prendiamo Come vi dicevo Il cartoncino Di prima E ricaviamo Un rettangolino Che sia leggermente Mezzo centimetro Mezzo centimetro Mezzo centimetro Mezzo centimetro Più largo Della matrice Originale Diamo quindi La colla A roll E passiamola Proprio Sul margine Passata la colla Sui quattro lati Adagiamo Perfetto Il nostro Acetato Adesso procediamo Piegando le linee Che avevamo segnato Quindi Pieghiamo 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 E pieghiamo Il più è fatto Ora Mettiamo Un bel giro di colla Tutto qua sotto Nella parte più larga Naturalmente Potete farlo Anche con la vina E chiudendo La scatolina Facciamo in modo Quindi Che i due lati Si bacino Perfettamente Così Mi devo alzare E chiudiamo Ben bene E' fatta Come direbbe Dora L'esploratrice Chiudiamo Le nostre linguette Una E due E la nostra scatolina E' pronta Per alloggiare I nostri oggettini Più belli Da regalare Guardate Non sembra Acquistata Eccoci qua Ve li ricordate I profumatori Per cassetto In gesso Se non ve li ricordate Vi metto Tra le informazioni Qua sopra Mi pare Il video di riferimento Allora Ho preso Dei pirottini Lo apro totalmente Posiziono Al centro E richiudo In modo D'essere Ben contenuto Quindi Apro La mia scatolina E inserisco Le mie Tre rose Profuma Cassetto Una bellissima Presentazione Sembrano quasi Delle saponette Ecco Anche per i saponi Magari molti di voi Fanno saponi In casa Confezionarli così E' tutta Un'altra cosa Che ne dite Lo schema Comunque Ve lo metto Sulla mia pagina Facebook La pagina Di arte per te Cercate Scatolette Homemade E troverete Gli schemi Quindi Diciamo che Lo schema Principe Questo qua Che poi potrà Essere adattato Con le vostre misure A seconda Delle vostre esigenze E allora Vi lascio le foto E noi ci vediamo dopo Visto che belle le nostre scatoline Pulite Nette I nostri pensierini La dentro Saranno esaltati E non sacrificati Bene Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Regalatemi Anzi Scatolatemi Un bel pollice in su E condividete questo video Sulle vostre pagine Facebook Grazie sempre a tutti Coloro che lo faranno Grazie perché siamo diventati Più di 40.000 Grazie Che emozione Quindi benvenuti A nuovi iscritti E grazie Grazie di cuore Ai vecchi iscritti Allo zoccolo duro Di arte per te Che mi accompagna Quotidianamente Nelle nostre avventure E grazie a tutti Per la canineria Che mi avete dimostrato Durante la mia influenza Questo è il primo video Che registro Dopo l'influenza E ragazzi È stata tosta Ma ce l'abbiamo fatta Virus Zero Ombretta Uno Oddio Durante la partita Ci sono stati attimi In cui ho temuto Che vincesse lui Però No no Ce l'abbiamo fatta E allora ragazzi Io vi continuo ad aspettare sempre Sulla mia pagina Facebook Sul mio Instagram Sul blog Naturalmente Su 2guore 1k Il link lo trovate sempre Qua sopra Con Gabriele Nei nostri vari social Per stare insieme a voi Per condividere insieme a voi La nostra vita La nostra passione Per l'arte Per la cucina E anche per poter condividere Le vostre passioni con noi Perché quello che poi interessa A me È vedere anche come voi Declinate tutte le idee Che Arte per te propone Nella vostra vita E quindi Vi aspetto quindi sempre Su tutti i social Su tutti i canali E noi ci rivediamo Al prossimo video Da Ombretta Ed Arte per te è tutto Arrivederci